belle gioie buonasera martedì 28 gennaio cominciamo subito subito velocissimi perché abbiamo un'altra carrellata della nuova collezione sempre in saldo quindi ragazze occhi aperti non ci perdiamo chiacchiere articoli che ci sono entrati di nuovo disponibili e tantissimi articoli ovviamente della nuova collezione come vi stavo dicendo sempre in saldo mi raccomando ricordatevi che se volete potete vedere ogni singolo articolo fotografato e avere una linea diretta con me su direct messenger di rgn lovers da lì vedete le foto con tutti quanti gli articoli come vi stavo dicendo quelli nuovi e nel dettaglio e poi rgn.fiano che è la pagina ufficiale del nostro negozio dove trovate orari contatti aperture tutto ciò che concerne il punto vendita chiusa parentesi occhi aperti perché si comincia cominciamo proprio dalle scarpe ragazze delizia stivaletto medio alto per quanto riguarda la gamba perché arriva un po più su della metà del polpaccio a un tacco di 45 centimetri all'incirca attacco medio largo car armatino sotto zip laterale per calzarlo perfetto comodissimo lo dico perché l'ho già provato questo modello qui ce l'abbiamo disponibile dal 36 fino al 40 ragazze e poi di nuovo disponibile a grande richiesta siamo riusciti a ritrovarlo eccolo qui è l'anfibietto il modello riders con la zip laterale anche questo modellino qui ce l'abbiamo disponibile dal 36 al 41 quindi ragazze se vi interessa soprattutto chi porta i numeri vicini mi raccomando correte perché adesso poi li trovate in saldo e sono tutte quante non imbottite all'interno che vuol dire che le potete portare tranquillamente fino a fine aprile per quanto riguarda il biker poi insomma ci possiamo tirare anche qui non più avanti di nuovo disponibile anche il modello anfibio con i lacci quello che ha la para di un paio di centimetri che è comodissima lo stesso modello che porto anch'io ragazze strepitoso non lo riuscite più a togliere se ve lo prendete ha la zip laterale questa versione qui e come vi dicevo eccolo qua ve lo faccio vedere vedete non ha la pellicetta all'interno che vuol dire che è new collection sempre a prezzo strepitoso perché è sempre in saldo e anche questo modello qui ce l'abbiamo disponibile a partire dal 36 chiuda parentesi per quanto riguarda le scarpe cominciamo subito subito a vedere l'abbigliamento e partiamo ragazze delizia allora magliettina disponibile vi faccio vedere i colori in verde acqua in corallo in nero in bianco ovviamente magliettina deliziosa allora parliamo di una taglia unica guardate la lavorazione cioè carinissima leggermente leggermente sono traforati in questi puntini qui ma proprio appena appena è un girocollo è un fantastico sotto giacca può essere messo anche sotto un maglioncino mi viene in mente magari sotto un cardigan adoro questo colore e che vi dico vi dico anche il tessuto è una taglia unica morbidissimo 95 per cento viscosa ragazze è la maglia perfetta da mettere anche sotto a un bel maglioncino col colla bù taglia unica vi stavo dicendo disponibile tutti quanti questi colori temmo abbinare tranquillamente a uno spolverino di felpa abbastanza lunghetto ai profili tutti quanti in ecopelle delizioso ve lo faccio vedere anche indossato vabbè farò sto sacrificio ce l'ho disponibile nella versione nera nella versione grigia e nella versione nera scusate ho sbagliato e è una taglia unica la parte centrale è in tessuto di felpa come potete vedere l'effetto per quanto riguarda l'esterno è proprio come se fosse una felpetta all'interno è garzato il che vuol dire che da adesso in poi lo mettiamo sempre mi è entrato tranquillamente anche con il maglioncino ragazze questa è una delizia non guardate come sono vestita io oggi sotto però secondo me questo merita assai il collo può essere ripiegato in più modi veramente veramente carino questo qui la manica può essere risvoltata essendo di felpa rimane abbastanza morbido e quindi ci piace assai ovviamente essendo uno spolverino di felpa abbiamo cominciato a portare i pantaloni della tuta quindi quello con l'elastico in vita quello in taglia unica medio larghetto per quanto riguarda la gamba non rimane assolutamente stretto e ragazze al polsino sotto il che vuol dire che possiamo anche regolarlo e fare anche un effetto secondo me sopra un affibbietto che magari possa essere una cosa del genere ci sta non è necessariamente da mettere su una scarpa da ginnastica ovviamente questo qui è in taglia unica per il momento disponibile soltanto nella versione nera cominciamo ragazze uno più bello dell'altro gli articoli che abbiamo scaricato questa volta li adoro mi sono innamorato un po di tutti mi sono innamorata soprattutto dei colori guardate questo corallo è delizioso ce l'abbiamo disponibile questo modello anche nella versione verde acqua nella versione nera e nella versione bianca ve lo faccio vedere in corallo non in verde acqua perché l'abbiamo vista prima la maglia allora maglioncino non troppo lungo diciamo che la lunghezza dovrebbe essere all'incirca questa cioè supera l'ombelico sa tre dita sotto l'ombrellico quindi si appoggia tranquillamente sulla baschina del pantalone è un tessuto morbidissimo andiamo a vedere di che cosa è fatto di viscosa poliestere poliamide questo qui è un misto ragazze sofficissimo alla manica a palloncino effetto biancaneve come mi piace tanto dire il collo è a giro morbidissimo questo rimane leggermente sagomato ma abbastanza morbido da mettere sicuramente sopra una gonna sopra un pantalone sopra un bel jeans abitava medio alta questo ci piace tantissimo e poi ragazze che prezzi allora diamo avanti i colori che stanno uscendo come potete ben vedere sono questi e ce l'abbiamo disponibile questo modellino qui un pochino più semplice un po più lunghetto quello da mettere per tutti i giorni taglia unica abbastanza morbida disponibile ovviamente il corallo nella versione verde acqua e nella versione nera è un modellino che ha un collo a v nemmeno troppo profondo morbidissimo questa è viscosa si sente al tatto ha la manica lunga ma ovviamente come abbiamo fatto noi potete tranquillamente risvoltarla vabbè questa ve lo dico 12 euro e 79 e sto è morbida morbida comoda sia da mettere sotto che da mettere magari sopra una magliettina questa già me la sono presa me la sono presa nella versione nera ce l'abbiamo disponibile anche in rosa è una felpa modello o versione size rimane sotto le ciapette sicuramente quindi da poter mettere anche con un leggins ovviamente ci vedrei benissimo pure un jeans chiaro che poi vi dico che ci sono anche rientrati e ha il cappuccio è in cotone nemmeno troppo pesante e garzato ragazze già cominciamo ovviamente essendo nuova collezione con il garzato mi piace la stampa ve la faccio vedere un pochino più da vicino e mi piace anche in rosa me la so presa nera ma non so se me la prendo anche rosa perché mi piace assai da mettere sotto a questa come vi dicevo ci sono rientrati di nuovo disponibili i pantaloni quelli a vita medio alta elasticizzatissimi modello push up disponibili dalla 36 alla 48 quelli con un'ottima vestibilità corallo verde acqua e nero è lo spolverino in dainetto morbidissimo ragazze taglia unica comodo comodo ha la manica che è sempre lunga due tasche senza zip senza bottoni quello che mettiamo sopra la blusa tranquillamente adesso ricominciamo con cose che chi più ne ha più ne mette ragazze tenetevi pronte perché ce ne sono arrivate in tutte le salse a partire e poi una più bella dell'altra ovvio allora a partire da questo modello qui che mi piace e vi dico una cosa ragazze oggi l'ho vista indossata è di una delizia allucinante allora andiamo a vedere innanzitutto i colori una fantasia allora partiamo dalla fantasia ancora prima fantasia che ha tipo delle goccioline ci sono su questa due colori ma su questa pure e su questa invece ragazze ci sono tre perché bianco rosa e celestino allora disponibile nella versione verde acqua nella versione corallo e nella versione celestina realtà c'era arrivata anche nella versione nera ma una ragazza è passata stamattina e prima che facessi il video già se l'era presa allora sono taglia unica hanno l'elastico in vita ma sono in realtà hanno un elastico unico ma soltanto dei fili elastici che vuol dire che rimane bella precisa ma morbida non vi stringe non vi fa la fascia soprattutto ha gli elastici anche per quanto riguarda la parte della manica manica che rimane leggermente a palloncino leggermente a pepistrello è una delizia vi dico che è veramente veramente bella taglia unica la lunghezza ovviamente avendo gli elastici che rimane a vita non è nemmeno così corta come potremmo pensare altro modello che c'è rientrato di nuovo disponibile ragazze ce l'abbiamo in vetrina il maglione quello sofficioso giro collo in verde acqua quindi ce l'abbiamo disponibile in bianco e nero e rosa e in verde acqua di nuovo come quello che sta in vetrina da mettere sopra leggins taglia unica soffice soffice caldo e avvolgente poi 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 vi faccio vedere ragazzi adoro allora magliettina giro collo taglia unica la parte centrale è di cotone la parte delle maniche è quasi un rasetto ma nemmeno troppo leggero disponibile nella versione corallo nella versione verde acqua una più bella dell'altra nella versione bianca ovviamente e anche nella versione nera questa ve la faccio vedere in bianco allora come vi dicevo parte centrale di cotone filo di cotone che vuol dire che rimane aderente sagomata ma molto morbida non è stretta non c'è quell'effetto elasticizzato che quando lo vai a infilare dice sì mi è entrata ma me si è accorciata no assolutamente perché di elastica morbida morbida giro collo alla parte della manica finale con il polsino dello stesso tessuto della parte centrale quindi molto molto morbida manica che rimane lunga e bella ampia su sulla spalle grazie all effetto biancaneve che ci piace tantissimo questa su un jeans o una giacca di felpa particolo nuovo ci sono arrivate giacchettina di felpa nella versione verde acqua nella versione corallo e nella versione nera è una taglia unica è una giacca sfoderata il cotone ovviamente è un semi elasticizzato quindi rimane bella aderentina ci piace tantissimo un unico bottone centrale volendo è deliziosa anche da lasciare aperta tasche finte colletto che c'è insomma taglio vivo è una giacca molto casual abbastanza sportiva però che riusciremo a mettere sicuramente sopra a tutto poi 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 che vi faccio vedere vi faccio vedere un'altra blusa allora disponibile soltanto in questa colorazione ma ragazze guardate quanti colori c'ha questa maglia è bellissima fiori primavera sta arrivando modello plissettato che vuol dire che è comodissimo anche per chi ha il seno un po più grande e con la manica leggermente a campanella ripresa da un elastico ma morbidissimo manica tutta trasparentina in georgette parte centrale che come al solito ha la maglina all'interno che vuol dire che a pelle nella parte del busto siamo con una fibra naturale questa qui la potremmo abbinare tranquillamente ragazze è arrivato il bollerino di dainetto guardate che carino questa questa è un ginsetto sotto che completino allora bollerino di dainetto che abbiamo disponibile nella versione verde acqua e io già l'adoro questo colore ragazze nella versione nera e ovviamente nella versione cammello taglia unica manica lunga che dire che ha le tasche che ha un prezzo stracciato perché 10 euro e 39 ragazze questo ve lo dico direttamente manica lunga come vi dicevo ha anche le taschine è un modello che rimane corto a vita è un modello che scende giù dritto il che vuol dire che anche con una cosettina un pochino più aderente sopra magari quando uno non si sente tanto sicuro sicuramente con questo qui che va a camuffare la parte sopra è delizioso e lo abbinerei benissimo questo modello anche al vestitino che ci è rientrato di nuovo disponibile ragazze guardate ecco questo sopra un vestitino sa una favola veramente veramente carino perché il vestito poi leggermente va ad accostarsi e questo scende giù dritto senza andare a fare le troppe lunghezze sopra quindi potrebbe essere un'ottima soluzione da mettere in questo periodo in cui ci dobbiamo comunque vestire in maniera sovrapposta perché comunque se capisce fa freddo fuori mentre i posti magari fa caldo e quindi l'idea del sovrapporre anche per l'ufficio per il lavoro insomma è un'ottima idea altro modello di bluse ragazze questo giro ci siamo sbizzarriti con le bluse è questa qui modello allora intanto vi faccio vedere i colori è un modello che ha le foglioline e dei fiorellini in particolare questa nera c'ha per quanto riguarda la colorazione delle delle dei fiori sul corallo poi versione con le foglioline corallo e i fiori sul celeste versione verde acqua per quanto riguarda le foglioline con i fiori corallo taglia unica molto molto morbida giro collo ampia questa pure da mettere sblusata o magari con una bella cinta allora leggermente più cortina davanti ma proprio di un pelo rimane leggermente più lunga dietro dietro ai bottoncini non so se si vedono si si vedono si vedono bottoncini che sono finti mi raccomando non servono assolutamente a nulla anche perché ha un bel giro collo e quindi la testa passa sicuramente manica a tre quarti comoda ragazze guardate how beautiful allora sono arrivati gli spolverini quelli medio corti in realtà sembra quasi una giacca senza bottoni manica lunga disponibile in taglia unica nella versione verde acqua nella versione bianca nella versione nera ce l'avevo anche nella versione corallo ma anche quella è stata venduta comunque l'effetto era questo qui mi deve rientrare taglia unica questa pure ragazze primavera va go go ma di nuovo disponibile ve lo faccio vedere subito eccolo qua è la maglia quella con l'effetto picchettatino quella che ha le due strisce oblique giro collo disponibile in nero in verde acqua e ce l'ho sul busto come l'altro video l'ho fatto vedere anche nella versione bianca questa qui c'è di entrata di nuovo disponibile ragazze ci adoro allora vi dico subito come lo sono preso verde acqua già me lo sono preso quindi state tranquilli perché ce ne sono ce l'abbiamo disponibile nella versione bianca nella versione nera nella versione corallo e nella versione come quello che mi metterò probabilmente domani verde acqua è il maglioncino con il collo a v visto viscosa ragazze sofficissimo cioè di un morbido allucinante per quanto riguarda la lunghezza anche questo modellino qui rimane a vita non è lunghissimo non va a coprire le sciapette a uno scolla v abbastanza ampio bello 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 manica palloncino polsino sotto sempre ovviamente dello stesso tessuto che comunque va a stringere per dare l'effetto bello visibile della manica palloncino che dirvi lo amo mi piace da mettere magari anche sopra una blusa o sopra una camicia guardate io farei anche un abbinamento del genere una maxi camicia che rimane vistosamente più lunga rispetto al maglioncino ragazze bellissimo la camicia che vi sto facendo vedere è un articolo nuovo c'è arrivato nella versione bianca e nera nella versione verde e bianca nella versione corallo e bianca una più bella dell'altra non saprei quale scegliere perché ragazze veramente queste a me fanno impazzire bianco e nero io adoro ma che vogliamo dire a questi colori allora taglia unica sono le camicie quelle belle morbide quelle ampie che possiamo mettere con il cintone che stanno bene a chi ha il seno abbastanza grande tranquillamente che hanno la ripresa per quanto riguarda la manica che vuol dire che la manica è lunga ma ovviamente la possiamo fare un pochino più corta mi piace davvero tantissimo mi piace pure quell'abbinamento non lo so probabilmente non lo faccio come completo ragazze questa sotto le ciapette abbondantemente da mettere tranquillamente anche su leggings a proposito di leggins vi ricordate il pantaleggings di jeans quello nero con le fasce che avevamo già disponibile mi sono arrivati disponibili dalla 36 alla 54 quindi ragazze non aspettate perché anche nella versione blu dalla 36 alla 54 disponibile questo maxi maglia oversize modello che rimane ampio a qualsiasi taglia modello che ha una piccola nella parte sottostante il che vuol dire che volendo la potremmo anche regolare per quanto riguarda la lunghezza che c'è scritto love ovviamente allora disponibile nella versione grigia con la stampa argentata tutte e tre nella versione nera che vabbè ragazza bellissima e nella versione verde acqua questo tessuto qui è in cotone morbido morbido in realtà una maglia manica lunga il collo è a giro abbastanza ampio quindi volendo secondo me anche un pochino da mettere con la spalla ascesa come mi piace tanto a me come vi stavo dicendo ha la culissa nella parte sotto il che vuol dire che si può regolare e mettere anche un pochino più su la lunghe per quanto riguarda la lunghezza questa è una felpa che abbiamo disponibile nella versione nera nella versione bianca ovviamente a contrasto quindi ragazze che dirvi culissa anche questo modello qui è una felpa leggermente felpatina appena appena giusto per dare un po' più di corposità al capo si può risvoltare nelle maniche rimane ampia pure questa ragazze 13 euro e 59 in saldo cioè nuova collezione in saldo 13 euro e 59 ma proprio appena 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 felpata quasi niente ragazze e poi di oversize da mettere un po' su tutto questa proprio per tutti i giorni ragazze siamo pronte questo ve l'ho fatto vedere questo ve l'ho fatto vedere torniamo a parlare delle bluse mi piacciono da impazzire disponibile nella versione bianca nella versione corallo e nella versione nera hanno una lavorazione micro a rombi e triangolini si guardate bella 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 taglia unica anche questa sì mi piace tanto taglia unica anche questa ovviamente adesso che andiamo incontro alla primavera quasi tutte avranno poi la ripresa per quanto riguarda le maniche in maniera tale che all'occorrenza possono diventare un corto che arriva un tre quarti di manica collo a v adoro morbida anche questo modello qui rimane leggermente svasatino mi piace questo modello va a coprire le sciapette quindi anche su un leggins o su fatta leggins tipo quelli di prima va tranquillamente bene e ci veste assai delizia delle delizie perché insomma ragazzi cominciano ad arrivare anche le camicette guardate disponibile nella versione bianca nella versione nera nella versione verde acqua che già qualcuno si è già comprata e nella versione corallo ha i bottoncini a una specie di cravattina che può essere messa qui l'hanno messa a nodo volendo io un modello simile ci si può giocare tranquillamente anche facendo un effetto a cravatta vera e propria taglia unica morbida ovviamente questo non è un modello che scende aderente perché è in tessuto di georgette e quindi deve rimanere abbastanza morbido e a sé questa pure ci piace tantissimo come ci piace da impazzire come al solito lo sapete io sono un amante del può guardate questo modellino qui è delizioso allora corallo con i può neri verde acqua con i può neri bianca con i può neri c'era nera con con i può bianchi ma se è stata venduta quindi mi deve rientrare è una chiusa con la stessa linea di quella di prima che rimane morbida che rimane lunghetta e che possiamo mettere un po su tutto altro articolo ci è arrivato è questa maglia effetto a doppio è disponibile nella versione verde acqua con il bianco nella versione nera con il grigio nella versione bianca con il grigio sembrano due magliette o perlomeno sembra una maglietta a effetto twin set ma in realtà è tutto attaccato la parte del bianco che vedete è in maglina la parte sopra che vedete e che sa anche di dietro e che ovviamente è anche nelle maniche è in viscosa ha un effetto a doppio scollo molto molto carina mi piace anche questa da mettere volendo sopra un leggins perché va a coprire le sciapette abbondantemente lunga abbondante anche nella vestibilità quindi volendo anche con una è rientrato di nuovo disponibile lo spolverino quello che abbiamo in nero nella versione verde acqua nuovo nuovo c'è arrivato questo modello è arrivato nei colori nuovi e nel tessuto nuovo un pochino più leggero un modello che abbiamo lavorato benissimo e che abbiamo amato in tante me compresa ovviamente ed è il maglioncino di viscosa lunghe che arriva quasi a metà coscia in realtà potrebbe essere un micro abito giro collo disponibile nei colori nuovi nella versione verde acqua nella versione corallo e nella versione nera che non può mancare questo è un mappeva secondo me della stagione allora ragazze tutte queste maglie qui sono tutte quante in misso viscosa che vuol dire che sono un pochino più leggero ovviamente rispetto a tutte quelle che abbiamo avuto prima sono ovviamente a colpo d'occhio si vede subito in tutti quanti i colori nuovi ma sono magari alcune i modelli quelli che ci sono piaciuti e che abbiamo venduto benissimo quindi ragazze che dirvi questa l'adoro perché poi sull'aglioncino arrivesse tantissimo mi è rientrato di nuovo disponibile il modellino che ha i bottoncini laterali e le taschine è medio lungo da poter mettere tranquillamente su leggins ma anche su una calza un pochino più pesante perché rimane abbastanza lunghetto giro collo il collo è a taglio vivo ve lo ricordo alle taschine laterali già ve l'ho detto disponibile in verde acqua in nero e in corallo ultimi due articoli che vi faccio vedere ragazze allora innanzitutto vi faccio vedere che mi è arrivata pure nuova guardate una borzetta deliziosa effetto pochettina nemmeno troppo troppo piccola abbastanza larga di spessore eccolo qua faccio così che faccio prima come sapere ragazze è di un carino allucinante non c'è tasche non c'è niente questa diciamo che abbastanza essenziale mi piace tanto semplice piccola e carina sempre new collection in saldo allora poi 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 una delizia ragazze non è carinissima la felpetta quella che ha le tasche ok c'è pure la taschina la manica lunga il cappuccio tinta unita nera taglia unica questa pure la metteremo tantissimo di cotone c'è la taschina nella parte davanti sotto una bella magliettina proprio lunghezza e via che dire che anche su un jeans a vita medio alta questa sarebbe una favola e ragazze veramente veramente carina disponibile soltanto nella versione mi sono arrivate poi le maglie quelle basiche non più fermate disponibili per il momento nero grigio e bianco stiamo aspettando le colorazioni e quindi occhi aperti di nuovo disponibili il vestitino plissettato e nella colorazione con il marroncino quello che ha le maniche velate la parte centrale all'interno con la maglina la parte esterna quella plissettata che sta benissimo addosso anche perché al seno un po più grande che sta benissimo anche con una cintura e che arriva quattro dita sopra il ginocchio e quindi la lunghezza quella giusta nella versione pedipool nella versione con i micro fiorellini sul marroncino e corallo e poi di nuovo disponibile la versione del vestitino con i fiorellini quella che abbiamo con la manica con la ruscia e con la parte di sotto con la ruscia a questo punto ragazze io ho fatto vedere tutti gli articoli che abbiamo scaricato oggi mi raccomando occhi aperti sulle nostre pagine rgn punto piano di facebook rgn lovers di instagram e facebook soprattutto per vedere gli articoli nuovi soprattutto per vedere quando usciranno i nuovi video a carrellata veloce per vedere anche gli articoli che rientrano di nuovo disponibili e poi mi raccomando iscrivetevi al canale premete il tasto rosso se non volete perdere nessuno dei nostri video e a questo punto che dirvi niente da manuele tutto vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video ciao ciao